Ciao a tutti ragazzi, è proprio in questo nuovissimo video, oggi vi faccio vedere questo nuovo film in super 8 che mi è arrivato e si chiama Duri a morire, film che devo vedere con Luke Merenda, Donald O'Brien, Percy Hogan, Laurence Stark, regia di Giuda Amato questa è la copertina, questa è il laterale, questa è il retro e ora andiamo a vedere le pellicole eccole qua queste sono le pellicole cinematografiche sono 1, 2, 3, 4, 5, 5 pellicole e inoltre ragazzi, mettetevi i piaci, commentate, se volete al canale e noi come sempre ci vediamo nel prossimo video, ciao a tutti belli